Befana, bambini, giocattoli ma anche riuso, riciclo, ambiente. Anche quest'anno Pescara è tra le 30 piazze italiane che ospitano l'iniziativa Giocattoli in Movimento organizzata dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. A Pescara il gazebo si trova all'angolo di via Fabrizi e Corso Umberto. Ma come funziona? Lo abbiamo chiesto ad Erika Alessandrini. È un momento di scambio giochi, giocattoli, doni. Quindi chi vuole, le famiglie che vogliono con i propri bimbi o i nipotini passare e portare due giochi ovviamente puliti e in buono stato da mettere a disposizione di altri bambini potranno scegliere nel gazebo quello che vorranno portare a casa come nuovo dono, nuovo regalo. Quindi è proprio un'iniziativa, l'insegna della solidarietà, del riuso, del riciclo per insegnare ai più piccoli che i giocattoli con cui non si gioca più non devono essere buttati perché possono trovare un nuovo amico, un nuovo compagno per divertire anche altri bimbi. Tutti i giocattoli che resteranno alla fine dell'iniziativa verranno donati ad un reparto di pediatria, una casa famiglia quindi ai bambini meno fortunati. Lo scambio di sorrisi e piccoli doni andrà avanti fino a questa sera come sottolinea Paolo Sola. Sì, stasera fino alle 21 e l'appuntamento è rivolto a tutti i piccoli cittadini pescaresi e non solo ma anche dei paesi limitrofi perché anche nell'ottica della prossima fusione nella nuova Pescara vogliamo che questo messaggio arrivi anche nelle zone limitrofe. Una trentina le piazze italiane, in Abruzzo voi e anche qualcun'altra? Noi e Sulmona. Sulmona ieri ha organizzato questo stesso appuntamento con un grande successo perché dopo due anni di stop forzato in seguito alle vicende legate alla pandemia c'era anche grande voglia da parte dei più piccoli di tornare a incontrarsi in questo appuntamento.